ciao bimbi come state? oggi con voi farò un'attività di motricità fine motricità fine significa che andiamo a sviluppare le nostre manine, i muscoli delle nostre manine e come facciamo per sviluppare queste nostre capacità? utilizzeremo oggi delle semplici mollette da bucato quelle che usa la mamma per stendere il bucato guardate questo movimento è molto importante perché va a rafforzare va a rinforzare i muscoli di queste dita di sicuro il bambino avrà bisogno di utilizzare più dita per poter fare questo movimento però è un buon allenamento ed è un'attività che possono fare soprattutto i bambini più grandi perché quelli più piccoli avranno un po più di difficoltà e quindi mamma e papà aiutateli allora bimbi dobbiamo andare a fare questa attività e perché dobbiamo fare questa attività perché io ho trovato un asinello e poi ho trovato anche un cavallino ma questi due animali come sono? sono senza zampe vogliamo dargli le zampe? certo e come facciamo? prendiamo il cavallino e gli mettiamo la pinza sotto così prendiamo un'altra pinza e gliela mettiamo qui ed ecco fatto abbiamo messo le zampe al nostro cavallino e si mantiene adesso eccolo qui guardate adesso però dobbiamo fare il recinto del cavallo e dell'asinello quindi insieme andiamo a fare questa attività vedete bimbi abbiamo due mollette una verde una blu prendiamo la molletta con la nostra manina e l'apriamo e la infiliamo nella parte bassa dell'altra molletta poi prendiamo un'altra molletta questa la prendiamo arancione e la mettiamo qua e poi ne prendiamo un'altra blu e la mettiamo qui e andiamo avanti abbiamo costruito il nostro recinto bimbi sì ogni tanto si staccano le mollette ma per niente però ci manca qualcosa ci manca la porta e adesso la andiamo a fare con delle altre mollette ecco guardate mettiamo sempre una sopra l'altra vedete abbiamo fatto anche la corticina del nostro recinto e adesso il cavallo e l'asinello che erano fuori adesso possono entrare dentro al recinto ecco qua con un salto sono nella loro casetta ciao bambini ci vediamo presto un bacio ciao